ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo contest di gta online ragazzi però questa volta è dedicato agli utenti di ps3 in alcune live qualcuno mi ha chiesto delle money lobby ho voluto fare di più ragazzi di money lobby voglio regalare degli account moddati per ps3 ci saranno anche contest per ps4 quindi non disperatevi ma questi sono solo per ps3 regalerò 5 account moddati ovviamente come ho già detto solo per ps3 ragazzi per partecipare a questo contest che cosa dovete fare dovete iscrivervi al mio canale che è questo qui e poi comunque dovete seguire i seguenti passi ragazzi è abbastanza semplice partecipare è molto facile vincere quindi dovete seguire questi passi che adesso vi elencherò allora il passo 1 dovete lasciare un like sotto questo video lo vedete anche scritto qui a schermo mettete un commento sotto questo video video partecipo scusate ragazzi ma me sono inceppato condividete più che potete i due canali perché i due tango mods e quindi andrete anche sul suo canale a iscrivervi e a partecipare anche i suoi contest perché anche lui fa contest e lasciate un bel mi piace sulla sua pagina facebook fatevi sentire insomma e come dicevo condividete più che potete i due canali orango tango mods tratta anche altri contest quindi rimanete connessi su entrambi i canali per partecipare a questi contest che si faranno in tutte e due i canali sia nel mio che nel canale di orango se avete bisogno di un account moddato ragazzi contattate orango mod che anche account moddati per ps4 ps3 account per call of duty account fifa se volete insomma ha parecchie cosine quindi per maggiori informazioni contattate lui vi darà la sua piena disponibilità per quanto riguarda questa cosa quindi che altro dire ragazzi rimanete aggiornati sul canale questo i risultati di questo contest usciranno nell'arco di sette giorni quindi rimanete su sul canale per sapere quando uscirà questo contest detto questo un saluto a tutti al prossimo video iscriviti al canale